Le quattro ho reto usane una, capisame fortuna e non so chi pigià. Sono qui con la pigià moglie e in vista che hanno quattro, miga una, quattro. E a bella lecce di faccia mi piaggiano tutte e quattro, ma fisicamente non sono peggie. A prima il catalogo ha le 25 centimetri certe che mi, a bene bene per fare le gianche in cucina, per portare la roba del barcone, ma però c'è diversi inconvenienti. Per prima cosa, all'incumenza mi ha metto l'alerte in basso, poi mi tocca mettere i tavolini in fondo nel letto per non farla dormire con le gambe le squerte. Per vestirla me garruino e a rischio che quando le passo più a strada le gente digan, se lo ho mai la giraffa, non ci siamo. De quattro ho reto usane una, capisame fortuna e non so chi pigià. A seconda, alle ci piccine amparmo che mi, a bene bene per fare le gianche belle sotto il letto, per fare le va più a sotto il comò, ma non ci siamo più abbrassate. O che le ammuntano in scena carrega, o che mi chiusiscono. D'altrunde, che ho vantaggio, che anche quando la via 80 anni, pure io sempre diga, mia piccola cara. Ma poi, non ci siamo. De quattro ho reto usane una, capisame fortuna e non so chi pigià. A terza, alle un bello topo di donna grassa, che quando lei bagnisce a spiaggia fa una ballena renà. E per l'inverno è l'ideale, ma un momento è a sé, e chi le ha il coraggio di tenisola da vigi? Non ci siamo. De quattro ho reto usane una, capisame fortuna e non so chi pigià. A quarta, alle secca capanas che vengam ten a man, e per a sé, alle quella che Dio fece. Ma un momento è all'inverno, e chi le ha il coraggio di dormire, qui in stu che fichare un buon tupì la schiena, fu pericolo di passare la parte a parte, qui in colpo di tutta. Non ci siamo. De quattro ho reto usane una, non mi piace, mettiamo il cuore in page, l'è inutile essere cà. Grazie a tutti.